C'è un interesse per questo progetto politico. Nelle prossime settimane presenteremo dei loghi relativi alle liste, così Giovanni Basile, candidato a sindaco alle prossime amministrative della città di Agropoli, a distanza di dieci giorni dalla sua presentazione ufficiale come candidato a sindaco nella casa comunale, in una intervista ai nostri microfoni ci parla della sua decisione di scendere in campo alle prossime comunali. Abbiamo gettato un sasso nello stagno, ho avuto vari incontri, varie telefonate, c'è un interesse per questo progetto politico che è un work in progress, quindi stiamo iniziando a ragionare con altre realtà e nelle prossime settimane inizieremo a presentare dei loghi relative alle liste. L'idea è formare tre liste, una di centrodestra, l'area che rappresento, successivamente ci sarà un'area alternativa, così si chiamerà la lista, quindi tutte quelle persone che sono impegnate in politica ma che non si riconoscono né nell'area di centrodestra né nell'area che attualmente amministra la città. È una terza lista più vicina a me che riguarda il mio mondo, il mondo delle professioni, il mondo delle associazioni, dei comitati e quindi stiamo cercando di portare avanti in questo momento una serie di progetti perché qui non si tratta di chiedere l'adesione per una candidatura, si chiede la possibilità di collaborare nella costruzione di una squadra che deve muoversi sui progetti che abbiamo in mente. Nell'intervista si è discusso anche delle possibili coalizioni future, vogliamo coinvolgere persone che si vogliono interessare al nostro progetto politico che parte dal centrodestra ma senza tessera di partito, sottolinea Basile. Ma oggi è difficile proprio avere un'interlocuzione in quanto i partiti di centrodestra ad Agropoli sono in fase di riorganizzazione, anche questo ha comportato uno scatto in avanti, non per occupare una posizione ma per dare un riferimento a quelle persone che oggi sono gli elettori di centrodestra, che ogni volta che vi sono le elezioni politiche premiano il centrodestra ma nelle politiche comunali cercano, vuoi che il tipo di competizione elettorale è diversa perché si vota anche il candidato che a volte non fa parte della compagine centrodestra, ma soprattutto per creare proprio le condizioni di convogliare persone che si vogliono interessare al progetto politico nostro che parte dal centrodestra senza avere un riferimento nel partito. Quindi sono quelle persone che hanno la passione della politica ma che non hanno testere di partito e che non vogliono fare politica all'interno di un partito. Quanto riguarda la Liga invece che cosa farà? Poggerà Giovanni Basile oppure avrà un candidato a stito? Ma io questo non te lo so dire perché è ancora presto, la Lega attualmente non ha un commissario, non ha un coordinatore, io mi sento con il coordinatore provinciale, ho molti amici all'interno della Lega, spero che presto facciano una sintesi, spero che la Lega sia un partito forte perché diciamo una parte del mio cuore è ancora lì, ho tanti amici, vediamo. Poi giustamente noi col nostro progetto politico andiamo avanti, personalmente auspico un appoggio senza simboli di partito perché per il progetto che stiamo portando avanti i simboli di partito di centrodestra in questo momento mi escluderebbero dal richiedere un apporto a delle forze di idee e di intelligenze che in questo momento mi sono vicine e che giustamente avrebbero delle difficoltà ad appoggiarmi qualora io fossi un candidato sindaco con dei loghi di partito. Quindi io escludo per il momento la presenza di loghi di partito di qualsiasi tipo nella nostra compagine elettorale. Ho deciso di candidarmi soprattutto per la mancanza di progettualità che da anni manca nella nostra città. L'amministrazione Coppola dovrebbe saper usare la parola no perché a volte, con troppi sì, a pagarne le conseguenze e il futuro della città. L'amministrazione Coppola non investe, non progetta, segue i problemi, non cerca uno sviluppo globale, è molto interessata a poter, cioè la coperta è corta e quindi si cerca più di tenere in piedi un'amministrazione cercando di non far storcere il naso a propri elementi. Io penso che un sindaco è bravo quando sa dire dei no e a volte per dire sì a tutti quanti ci si trova poi che ne paga il futuro della città. Il programma elettorale del candidato a sindaco Basile prevede una progettazione specifica per Agropoli. Bisogna avere le mani libere quando si realizza un progetto. Non si deve accontentare l'amico o chi ha portato i voti. È importante selezionare le figure professionali della nostra città. Si parte da un discorso di collocare Agropoli a livello che le compete e questa non può prescindere da un rilancio turistico, economico e commerciale della città. Oggi questo non viene fatto, oggi se lei vede siamo a maggio e non è stata presa nessuna decisione per il turismo. Diranno che la colpa è del Covid, ma il Covid non c'era tre anni fa, non c'era due anni fa e quindi questa è la gestione. Anzi oggi il Covid è un bel velo che viene posto su dei problemi che ci sono in città da ben 15 anni. E quindi noi pensiamo che l'unico modo che si ha per collocare Agropoli nel posto che le colpete è quello di progettare e di avere le mani libere. Cioè quando si fa un progetto non lo si deve fare per accontentare l'amico o per accontentare la persona che ha portato dei voti. È importante anche selezionare elementi migliori della nostra città e se non ci sono prendere da fuori, ma prendere da fuori elementi migliori, non prendere da fuori gli amici. A volte l'amico deve dire no e quindi Agropoli purtroppo per non dire no a degli amici si trova nella situazione in cui è. Nelle passate elezioni amministrative ma anche nelle elezioni regionali il cavallo di battaglia di diversi candidati è sempre stato l'ospedale civile di Agropoli e la sua riapertura. Basile invece sottolinea che nella sua campagna elettorale per rispetto dei cittadini di Agropoli e della stessa struttura sanitaria non parlerà né di promesse né di riapertura. Dell'ospedale civile di Agropoli io non parlerò in campagna elettorale perché parla la mia storia. Quindi per rispetto dell'ospedale di Agropoli non me la sento, è come se vedessi che fosse tipo mio figlio, non me la sento di gettarlo in questa battaglia che a volte scade. Quindi io per rispetto dei cittadini dell'ospedale di Agropoli non parlerò mai dell'ospedale di Agropoli. Penso che i cittadini sanno che qualora io avessi la forza politica di poter incidere in determinati tavoli l'ospedale di Agropoli non sarebbe quello che l'amministrazione Coppola e Alfieri hanno consegnato alla città. Io spero che la città di Agropoli si aspetti di vedere una competizione elettorale seria, senza fango. Noi non ci dobbiamo aspettare qualcosa dalla città, dobbiamo aspettarci qualcosa da noi, cioè di proporre un progetto serio, un progetto importante che venga capito, saperlo comunicare, avere le persone vicine. Se riusciamo a fare questo mi aspetto una cosa molto importante della città di Agropoli.